Sì, vai. Vai. Partito. Salve a tutti. Allora, ci tengo davvero inizialmente a ringraziare Stefano Ambrosini, Salve Ceccarelli e vorrei parlare in questo momento un po' a nome sia mio che di Sandro, perché questo incontro diciamo ha lo scopo di rendicontare un po' quello, in termini proprio numerici, quello che ha prodotto fino ad oggi il nuovo sistema di raccolta porta a porta che abbiamo avviato il 14 di dicembre e poi vi accenderà dopo Stefano Ambrosini dei vantaggi che ci ha portato, che ha portato la nostra amministrazione appunto a partire a dicembre, quindi l'anno precedente. Quindi abbiamo avviato il servizio circa da due mesi e ci tengo a nome di entrambi i comuni veramente a ringraziare tutti gli operatori della Rea, Libio, Manola, Marisa, Stefano, scusami, Federico Bolognesi che è come sapete il nostro referente, Rea sul territorio, che ci ha dato una grandissima mano ad organizzare il tutto ed è quello che sta ancora facendo. Allora, principalmente ringrazio i cittadini perché ovviamente come ci hanno detto i nostri operatori con i quali abbiamo rapporti pressoché quotidiani che conferiscono davvero in maniera correttissima, cioè i sacchetti sono ben esposti e sono ben riempiti, quindi difficilmente viene lasciato l'avviso per il rato conferimento. Quindi davvero grazie perché senza l'aiuto di tutti non sarebbe stato possibile intraprendere questo percorso di rispetto verso l'ambiente e verso il nostro amato territorio. Quindi niente, adesso se vuole aggiungere qualcosa a Sandro e poi Stefano ci darà un po' di numeri. Sì, confermo appunto tutti i ringraziamenti perché è stato veramente un grande lavoro di squadra da parte, sì, dei rumoni con il segretario che ci ha dato una mano, Stefano, e poi tutto l'inturaggio di Rea, veramente. E una cosa che non avevamo forse anche nemmeno ipotizzato o pensato è che questo sistema di raccolta del porta a porta ha dato una dignità nuova anche alle persone anziane che erano forse anche qualche mese se non anni e non riuscivano a conferire correttamente nei bidoni la loro spazzatura ma si dovevano appoggiare i figli. Questo è sortito fuori anche durante l'incontro con le organizzazioni sociali di avere avuto un occhio di riguardo verso queste persone un pochino più fragili che hanno ritrovato un po' la gioia di dire sono indipendente e mi butto via la spazzatura da me. Quindi è stata anche una cosa che nel marasma non avevamo concepito o pensato e abbiamo potuto verificarlo. Quindi Stefano, illustraci te, dici un po' come vanno le cose. Perfetto, allora intanto io invece do ringraziamento anche ai due sindaci e alle due amministrazioni che ci hanno creduto perché non era facile visto che l'area della bassa Livornese e Pisano storicamente era quella un po' più indietro rispetto a aree più avanti sulla raccolta come la Lucchesia o l'Alto Pisano eccetera eccetera. Quindi in realtà anche Sandro e Claudia ci hanno creduto e vi ricordo che questa progettazione è partita a metà dell'anno scorso, non dieci anni fa. Quindi nel giro di qualche mese si è riusciti grazie alla collaborazione del gestore e cito anche Lato perché senza la collaborazione del Lato e dell'ex direttore quindi quando si parla di Pinotti e di Altesa, Ricco Fancello e Roberto Nieri oltre anche all'ex direttore tecnico di Rea che adesso è in sostituzione a Roger Bizzarri e a tutto il personale di Rea è stato possibile realizzare un risultato che sembrava impossibile. Cercherò di essere molto sintetico. Allora noi partivamo da una situazione sia di Casale e Guardistallo, ve li faccio vedere tutti e due, sostanzialmente Guardistallo aveva una raccolta differenziata diciamo del 46%, questo dato realistico era tra il 20 e il 30%, la maggiore raccolta differenziata era calcolata sulla quantità di compostiera che era presente sul territorio, vi do un'idea, il dato delle compostiere non è reale perché nel calcolo delle differenziate si danno circa 200-250 kg di umido per ogni compostiera inserita sul territorio, anche se questa è vuota quindi in realtà questa è una differenziata diciamo così, non vi ritiro. Casale Marittimo era su una quota anche lei diciamo indicativamente del 35% medio diciamo negli ultimi 5 anni anche lei diciamo circa sul 30%. Allora vi ricordo che il termine vecchio di raggiungimento della raccolta differenziata era il 65% al 2012, adesso è stato spostato al 2021, questo è un dato poco interessante ma dopo vedremo che tutti i numeri che vi dico ora hanno risvolto il tipo economico. Vi faccio vedere cosa è successo sostanzialmente nei due comuni. Allora qua abbiamo diciamo i dati relativi a Casale, ve li ingrandisco un po', quindi qua abbiamo sostanzialmente i dati dal 26 di dicembre, quindi abbiamo aspettato che ci fossero almeno 6-8 settimane che sono le prime per vedere la stabilizzazione dei dati, ad ogni modo siamo passati su Casale a una quota di circa l'81% di raccolta differenziata. Vi ricordo che partivamo da un risultato inferiore al 40% reale, con una qualità molto bassa, questa è l'altra cosa importante, la qualità della raccolta è nettamente migliore, in più un'altra cosa che non si è detta prima è che siamo passati dal multi pesante che non ha valore perché bisogna riselezionare al multi leggero e la gente l'ha capita e diciamo che ha reagito in maniera molto positiva. Vi faccio notare questo dato importante, l'81% di raccolta differenziata su Casale, poi vedrete che anche su Guardistale è molto simile, e questo è un trend su base settimanale ma per farvi capire, un cittadino di Casale produceva un rifiuto totale di circa 671 kg all'anno, adesso 175, non è che si sta mangiando il sudicio, semplicemente il sistema stradale aveva quella forte assimilazione dal passaggio dell'Aurelio o degli altri comuni o industriale che scaricava all'interno dei cassonetti. Quindi questo rifiuto sostanzialmente è ritornato a casa e la paura che aveva qualche, diciamo così, super esperto di raccolta differenziata all'inizio di questo sistema che finirà tutta la roba nei boschi, eccetera, eccetera, in realtà come è previsto e come succede in tutti gli altri comuni, il comune è molto più pulito di prima, le aree dove c'erano le mini discariche sulle strade adesso sono, diciamo, pulite. Perché? Perché l'affiancamento è il magneto dell'abbandono, in inglese è littering, è dato dal sistema stradale. L'altra cosa importante è la riduzione della frazione secca, che vedete è su tutti e due i comuni simili, poi vediamo anche Guardistallo, su Casale meno 92%, questo è un dato che deve far pensare, vuol dire che prima nessuno faceva la raccolta differenziata, quindi meno 92% di frazione secca. Andiamo su Guardistallo e vediamo che anche qua abbiamo una raccolta differenziata del 79%, con le compostiere si va a questa quota, diciamo più o meno dall'81-82, quindi i due comuni si equivalgono. diciamo che Guardistallo ha un po' di più, magari di rifiuto ingombrante, perché ha più abitanti per adesso, in questa fase qua. Però vediamo che anche qua il trend identico si passa da 5,98 di rifiuto totale a 2,17, meno 65%, e il rifiuto secco pro capite da 319 a 23, che è un dato bassissimo. Quello che vi sto indicando sono i chilogrammi abitanti annui. È ovvio che poi dopo, sperando che vaccinino tutti per maggio, giugno, e ci sarà un po' di stagione estiva, questo dato aumenterà. Il dato realistico è che andremo su una quota di circa 40-50 chilogrammi di secco abitante, passando da una quota precedente di 400 chilogrammi abitanti, quindi sempre questo famoso meno 90%. Vi faccio vedere l'ultima cosa, poi vi do un'ultima dritta, poi chiudiamo, questo era un video di meno di 10 minuti per darvi un po' di aggiornamenti. Allora, vedete che la quota relativa all'indifferenziato, che qua leggete Rurra, è meno del 20%, quando prima era il reale 80% del rifiuto complessivo. Cos'è che è calato? Il secco. Allora, è aumentato, che cosa? Il mutileggero, che vi sembra poco, ma in realtà è perché è poco pesante, ma è tanta roba. Infatti la frazione con più volume, come si era già detto, è la plastica, le metalli, e quella più pesante, lo vediamo anche qua, l'umido. È idem su guardistallo, guardistallo, vedi che qua è perché quelli di guardistallo mangiano di più, quindi hanno più organico, è vero, Sandro. Però il multileggero, se vedete, è equivalente a 13%, 13%. La composizione dell'organico varia anche per probabilmente la ristorazione, eccetera, eccetera, e così via. La cosa interessante è legata al fatto che da subito il secco è crollato a una quota che si era prevista di circa il 20%. Ricordatevi che questo dato è provvisorio e nei due comuni non c'è ancora la tariffa puntuale che verrà introdotta con buona probabilità dall'annualità 2022. Questo farà sì di avere un'ulteriore riduzione sul treno annuale di secco, quindi adesso arriviamo alla parte economica e termino. Allora, con questo sistema partito a dicembre e per questo ringrazio ringrazio tutto il personale Rea, Leonardo Mannari, Federico, gli operatori e per questo caso Marco Giannetti che è un nuovo responsabile amministrativo, si è riusciti a realizzare sostanzialmente un PEF già ridotto sulla stima del miglior costo del 2021. Questo permetterà ai due comuni di fare già una prima riduzione della Tari, che penso sia una notizia ben gradita per la cittadinanza già nella Tari 2021. Come abbiamo già detto è un percorso di circa due o tre anni, quindi noi avremo l'efficientamento finale nella Tari del 2022 e però insomma questo risultato è stato possibile per il lavoro di tutti anche per la grande partecipazione della cittadinanza che ha seguito in maniera diciamo così molto coesa le indicazioni date dall'amministrazione e anche diciamo dalla parte della progettazione. Io chiuderei qui lascio magari ripeto questa era solo una piccola pillola per farvi un aggiornamento lascio un'ultima parola un saluto ai due sindaci e poi ci aggiorneremo nei prossimi mesi quando abbiamo altri dati che consolideranno le medie di raccolta. Grazie Stefano grazie per tutto il supporto che ci dai. io voglio approfittare di questi secondi proprio per chiedere a Sandro visto che siamo comunque in video che magari la cittadinanza vedrà un piccolissimo aggiornamento ne abbiamo parlato ieri sul centro di raccolta. Sì allora venerdì viene fatta l'opera di gettata della soletta definitiva dell'area e poi passeranno al posizionamento della vasca di raccolta di prima acqua e ci sono già pronti le aziende che sono state individuate per fare sia l'impianto elettrico e la fornitura per quanto riguarda l'allaccio idrico delle fognature quindi siamo un pezzo avanti purtroppo i lavori hanno subito dei ritardi perché non si può gettare sotto l'acqua fino all'altro giorno non si può gettare se la temperatura va di sotto dei 5 gradi quindi è stato 3-4 giorni di freddo belva ecco in questa settimana siamo arrivati in pre-primavera si riesce finalmente a fare il barzio in avanti poi durante sarà fatto l'allestimento comunque ve lo faremo vedere anche su Facebook io voglio dire soprattutto una cosa che questa situazione è stata anche possibile perché Stefano ha coordinato tutto e sinceramente il mettere meno bilioni di prossimità o comunque contingentare al minimo possibile ha reso invece questi numeri la miglior qualità del rifiuto la miglior gestione e quindi come avete sentito anche da subito avere un risparmio l'ultimissima cosa io è dal 2015 dal 17 luglio del 2015 volevo fare una cosa ripetosa e dal 17 agosto del 2015 quando purtroppo sono stato con quella brutta notizia del nostro amico Andrea quindi lo voglio dedicarne anche a noi perché sulla spazzatura mi ha sempre dato una mano era amico di tutti di Guardistallo e di Casale Andrea ci si è fatta siamo andati avanti grazie a questa piccola grande donna e a quest'altro disgraziato che ci dice secco e abbiamo martellato tutti che davano di un uomo del secco grazie a tutti grazie a tutti era un sogno poter riuscire a avere questo lavoro di insieme grazie a voi grazie a voi buon